ben tornati in questo nuovo video canale di aurora e maria pia oggi ragazzi nuovissime escape scappiamo dal macellaio cattivo e quest'oggi è la volta di maria pia ok ragazzi voi siete pronti noi siamo super pronte forza 1 2 3 via ma se non l'avete ancora fatto ragazzi iscrivetevi al canale ciao attivate la campanella e lasciateci qualche like ah ecco non devi toccare le bistecche visto tanti saluti anche dalla nostra piccola aurora sono bistecche ecco la bistecca cattiva proprio l'ultimo ok carino questo mi piace l'ho già fatto ecco quando lo devi toccare perché quando quando ci seguendo vedo delle persone dopo non riesco a farlo bene nella cosa vai più vicino devi farlo più vicino ok dai riproviamo ecco come ha fatto il ragazzo brava brava bravissima si ok ecco qua lo si ricardo mamma 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 lo si di magliale brava ok wow ma che c'entra il ghiaccio con la carne nelle cellule che non sapevo i essi ok allora si non cadere brava voglio regalare questo ok si scivola e non devi andare a sbattere lì giusto eh dove ci farei cose fatto yeah dove stiamo andando eh chi lo sa che forza io l'ho già fatto brava un'impastatrice le salsicce i salsicciotti buone le salsicce a me piacciono vai brava pia ah difficile brava brava questa è una mannaia ok brava ricordati sempre di andare sul pulsantino verde il jack boy jack boy un po' come ok ma questo è un parkour la macchinina deve andare sulla macchina no peccato oh mio di questa è la pancetta radioattiva ragazzi poi il bacon il bacon brava bello wow wow ok super ragazzi se voi avete fatto già questo parkour questo escape lasciateci un like fatecelo sapere ok oh mannaggia peccato sembra l'ultimo eh vabbè dai brava ma questo cos'è un tritacarne attendo guarda che esce da là brava un tritacarne eh ti ha tritato mannaggia vuoi tritano sticosi eh sì la mucca dai poveri mamma mia sta soffocando povera mucca che soffoca devi fare il latte eh dai aspetta ok fai il latte e gli nascono i figli i vitellini i vitellini eh di nuovo queste tritacarne queste tritacarne aspetta vado 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 aspetta un po' bravissima ok devo urlare se all'ultimo non riesco dobbiamo scendere ci sono i bidoni chi sa cosa serve un acido di canceriva della carne è morto oh mamma mia bidoni dei rifiuti tossici i patti e mannaggia scusate ma si sta giudendo ok così brava superfia ma quello sta volando brava adesso che bisogna fare la mucca ci sono i laser la mucca ma sembri un toro la mucca lo danno un po' di latte che me lo devo bere qua non c'è la mucca è morta per colpa di questo coso ok ok mi stanno facendo incavolare vai vai ok ce l'abbiamo fatta per fortuna la mucca lola brava cos'è cos'è oh mamma mia oh pensavo che era un ascensore ma è piano è brava ok brava brava adesso oh mannaggia per poco cavoletti di bruxell 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 ecco ecco sta cosa che fa schifo dai dobbiamo prendere un coso volante solo che a pagamento oh mio dio ci vuole solo una prova di abilità questa allora vi dico cosa porta fortuna vai piano che ce la fai ok ok piano 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 si 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 piano 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 brava 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 vai dovevi fare il pulsante verde papà ok dobbiamo prendere qua ma non lo posso prendere non lo posso prendere perché non lo prendere qua e non lo so dai vai vai avanti però sei non so cosa succede ok ma che cosa si mangia sta mucca per questo si sente ma con i bidoni tossici ok brava sulle ossa se muoio devo rifare da capo oh andate ora dove sono te l'avevo detto io tu non mi ascolti che dovevi fare il coso verde e me ne ero scordata ahah ahah ahaha ahahah ahahah mi gratto io perchè non facciamo le cose con attenzione ahah ahahah forca allora mucca come andiamo se poi il proprio più difficile è dovuto ricominciare proprio da prima prima ora da qui salto qua vediamo se posso saltare veramente di la di nuovo non mi fa saltare non ti fa saltare no devi fare tutto il percorso ho messo fuori obbligatoriamente dai forza adesso abbiamo una sonora là dove le mucche qua dai ragazzi dove c'è questo pallino che sto facendo io questo qua eh vabbè vabbè ok perché è nulla allora nonno maria pia non ha deciso di fermarsi qui per oggi non vuole proseguire e quindi ragazzi noi vi salutiamo questo video finisce qui noi vi salutiamo iscrivetevi al canale attivate la campanella ciao noi ragazzi vi mandiamo tantissimi baci e come sempre ci vediamo in un prossimo video ciao ciao a tutti ciao ragazzi ciao ciao ciao